Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Stef, e che se giochiamo a My Teacher? E oggi ragazzi proveremo dei giochi per cellulare che io sinceramente non so come definire Perché non sono né belli, né troppo brutto, strani, diversamente belli, diversamente belli, ok Perché magari a qualcuno possono piacere Giochi non mirati alla nostra età Ok, ci sta, ci sta, noi li proviamo lo stesso perché, oh, sono giocatissimi nel cellulare Quindi perché non ci possono provare anche Stef e Ferinichi? Diciamo le cose come stanno, sono le 20.36, abbiamo fame, abbiamo sonno, stiamo registrando questo video Non si sa bene perché, e quindi siamo finiti in questi giochi Ottimo, ottimo Allora, i bambini sono già felicissimi, l'insegnante pure, andiamo, vediamo cosa dobbiamo fare come insegnanti di questa scuola Spero Sterminare i bambini? No, non si sterminano i bambini Allora, prima di tutto, pubblicità Questo comunque è un indizio No thanks Ti sta dicendo che il gioco è talmente brutto che ti conviene installarne un altro Proprio Ma dai Secondo me è un indizio, io non vorrei dire però Allora, qua non so perché c'è questa roba tipo che dice che devi aspettare 5 ore Quindi noi andiamo in un'altra stanza, ok Quella dell'arte perché l'arte è bella Ma scusami, questo è l'ingresso della scuola Cioè possiamo andare nell'altra stanza ma non possiamo entrare Che succede? Dobbiamo disegnare e fare cose Questo è serio? Ce lo dobbiamo fare noi? Disegniamo un cagnolino Però me lo devi far disegnare Aspetta, prima li stiamo attrezzando, capito? Perché l'insegnante all'inizio dà le cose per disegnare e per colorare i bambini Cioè arrivate a scuola che non avete neanche i vostri colori Io ce li avevo sempre Lasciali in pace che sono giovani Perché ero gelosa delle mie cose quindi ce li avevo sempre Sono dei giovincelli, vedi dobbiamo dare il foglio a tutti Ma stanno già i capelli tinti, guarda la seconda Non lo so che ha pensato Tu ti ha? Ah possiamo scegliere? Devo per forza fare il canguro? Io non voglio fare il canguro Io volevo farne un altro Facciamo il canguro, dai Cioè volevo fare un'altra cosa Oh no, vedi questa è la parte bella, la dobbiamo colorare noi Ma siamo l'insegnante ai bambini a sto punto Non lo so, tu fai, tu fai La bacchetta magica che serve? Ho sbagliato No arancione non lo possiamo fare però Posso tornare indietro Dammi un attimo il telefono Dammelo Ok Dammelo Allora Io mi arrendo ragazzi A sto punto per rimediare Per rimediare facciamo Cosa hai fatto? Devi stare Perché hai aperto Clash Royale? Non sono io la pubblicità Ho cliccato un pennello e hai partito la pubblicità Ci sono certi pennelli con la pubblicità Hai solo certi colori Io volevo il rosso Non puoi riguardare Clash of Clans Questa è una scuola dove Allora praticamente Sai cosa sta succedendo qua? Stanno limitando la mia creatività Perché non è giusto che io possa avere solo colori limitati Per esprimere la mia arte Cioè qui stiamo dicendo che i bambini non possono esprimere Quello che hanno nel loro cuore Chiudi la pubblicità Muoviti Cosa stai facendo? I baffi Questa è la tua creatività I baffi Avevi bisogno del rock Le unghie dei piedi E poi cosa gli possiamo fare? Una dignità Perché gliel'hai tolta Allora Io ero partito anche relativamente bene Non ho giusto capito come si cancellavano le cose Perfetto Metti Fabulous Faccio io Faccio io Faccio io Allora ho capito che non sei una persona seria Qua abbiamo la carta da parati secondo me Per metterli lo so Perché gliel'ho messo nell'occhio? Va bene così A più A più Grazie Sono d'accordo Vedi io te l'ho detto Guardalo Guarda piccolino in basso Non dovevi fare il canguro Capito? Dovevi proprio vederlo in modo astratto È questo che si insegna nelle scuole È questo No non si insegna per fortuna Ah quindi dobbiamo fare una valigetta Praticamente alterno Il rosettino al violettino Ok Molto bello sì Vero? Guarda E poi un blu Sì perché Sotto verde dai È per coglierti alla sprovvista Abbiamo bloccato però Esatto Non ce li da Io lo lascerei così Vero? B Ma ascolti maestra Ma ce li ha gli occhiali O ce li ha per finta? Me lo fa E richiede la valigia Perché non l'ha fatta la bambina prima E non le voleva dire Guarda che spagliato disegno Ma quanto dura sta roba? Non lo so Cioè mi sta Mi sta Confondendo un attimino Ok 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 Allora guarda Cioè ma questo Fatta A più E a questo punto mi ispira molto questo Il teatro Sono proprio curioso Ma io volevo fare la lezione di musica Ma scherzi No io sono proprio curioso di vedere Che cosa insegniamo qua? Sono prontissima Tu ti vestirai con una felpa Anzi no Facciamo la camicetta Perché tu sei proprio Non è felice Un gran figo E questi Vero ti piacciono Sì le scarpe purtroppo Non te le posso mettere Perché c'è la pubblicità Un orologio E gli occhi Eh sì Sei bellissima Match cool Sei bellissima Poi Ma abbiamo sempre Lui fa il paggialla Sì perché non sblocchi gli altri Fai un po' il tirchio qui Capito? L'insegnante avrà cose diverse Ok Allora Ma pure l'insegnante Dobbiamo vestire All'insegnante mettiamo questo Non le piace Ha fatto una faccia Questo Sì che le piace E poi hai una borsetta Ok Pronto a vedere Che cosa Ho sbagliato Ancora Terza volta E poi abbiamo appena finito Di guardare un altro Allora Dobbiamo posizionarli Nelle posizioni Che ci dice E lei Qual è questa qua Ok Tu Qui E tu qui Vai qui Vai da Che problemi stai avendo Ok Adesso credo che Dobbiamo fare la foto Ok vai Accendiamo Perché ovviamente Bisogna accendere Che belli C No ma pure questa Adesso dobbiamo photoshoparla Capito Ma perché È già bellissima così Vi mettiamo questo Ok Perfetto Bellissimo Appendetela in classe E infatti Non sapevo che si recitasse Facendo una foto Facendo una foto Però Con albiti normali Oltretutto Siamo noi Rimasti indietro Capito Cosa vuole Fare arte Vorrebbe fare le lezioni d'arte No non la fai Adesso è teatro Quindi ascolta Sai che lezioni facciamo Quella del chiudiamo il gioco E cambiamo E cambiamo E dopo un gioco bello Com'è my teacher Adesso abbiamo La nostra prima cotta Ok No io non commento Per il più titolo in italiano Colpa sua Colpa sua Titolo in italiano ragazzi Ma poi il gioco è tutto in inglese Così Quindi vorrei capire Come si possa capire Esatto Allora ma noi siamo prontissimi A tradurre Sì Adesso dobbiamo chattare Per farti notare Per farti notare Per farti notare Mettiamo anche un po' Aspetta Che se dobbiamo Prudemirare Qui così Sì 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 Stanno guarda da favola Non ho mai visto Una persona qui stanno così bene Grazie al cielo Non l'hai mai vista Sei perfetta per il tuo primo appuntamento 10 più come voto Ora Lo conquisterai di sicuro Io mi sento sempre in colpa Quando facciamo questi video ai consolini Devo essere sincero Allora È venuta a te l'idea Io continuo a dare la colpa a te Perché io sono qui Una ignara persona Che non ha capito Cosa sta succedendo Guarda che te l'ho detto Ragazzi Gli ho proposto E gli ho detto No sì dobbiamo farlo Ci ridiamo troppo Quindi Non è vero Sei un bugiardo E nessuno ti crederà Hai capito Va bene Però l'ivato stai ridendo Mi ha detto Facciamo sti giochi bellissimi Io mi sono fidata Capito Silenzio Perché qua c'è la parte seria E tu non me l'avevi detto Che io dovevo solo guardare Silenzio Pensavo dovessi giocare Qua ce n'è meno per ora Vedi la quarta iconcina Ok Se indovini che cos'è Ti regalo Questo pacchetto di caramelle Ma non mi piace E allora questa ti piace Sì quella mi piace Oppure addirittura Il cioccolato bianco Aspetta sì perché Quello sì lo preferisco Notate che sono tutte A portata di mano Queste caramelle Questo qua Cioccolato bianco Con gli smarties Cioè che cos'è quella bilancia È buonissimo Esatto Se lo indovini È il tuo cioccolato Vai È il peso dei loro sentimenti No Secondo me è l'oroscopo Beh ma davvero Vediamo Non lo so Io sono andata anche proprio Vediamo Ecco qua Esatto Vediamo Adesso aspetta cosa esce È mio al cioccolatino Allora È però due ore Lo mangerei per ora di cena Ma devi cliccare test o cosa Ah sì scusami Clicca test Allora Toro con leone Compatibilità 90% 87 99 Però vedi Aspetta Relationship 79 Bassino eh Perché però poi allora il matrimonio è l'87 Oh guarda Eccoli arrivati Belli Vedete Ciao Con Steph e Ferenichi Si trova a prima cota Oh quanti cuoricini Dalli cuori qua Congratulation Perché ci Ah ci fanno un regalo Perché siamo stati troppo bravi Vedo Cioè mi regali davvero una borsa dell'acqua calda Per il mal di testa Allora O per il mal di pancia Ti ho truccato Specificate perché è importante Ti ho truccato Ti ho sistemato per appuntamento E mi fai sto regalo E ti dà anche la pubblicità Sono proprio curioso di come sarà il secondo appuntamento Ah Dove Andiamo a mangiare in mensa Sì E lo rincontriamo Quindi in base a quello che noi mangiamo È un po' sporca sta mensa E infatti dobbiamo pulire noi Pure Ma mi stai chiedendo troppo qui Cioè non esageriamo Qualsia di cosa per il vero amore Ok Io per te non pulisco Qualsia di cosa Lo so Lo so Lo so Già si vede Questo che è? Il menù E quindi lo devi mettere nel menù Ah ok E poi dobbiamo anche scegliere le pietanze In base a quello che gli piace Fammi vedere Ah mangi quello che ti dico io Guarda Questo è il menù Arrangiaci Se puoi mangiare Ti piacerà Giusto? Mangiati il menù Guarda Poi L'insalata Perché vedi È un gioco che comunque fa capire Che bisogna Ah dobbiamo pure prepararlo Ma siamo alla mensa di scuola Perché stiamo cucinando e pulendo Vai la lascio la lascio Bravo Ok Cos'è questo? Un pomodoro o una mela? Pomodoro ovviamente E sembrava una mela di fatto Ok Ok Ah possiamo scegliere Abbiamo Le olive Olive o mais? Cosa scegli? Non il mais Ci sta meglio il mais Questi ingredienti Guarda Te lo dico Ascomettiamo anche le olive Le olive Vai Pronta Buonissima Poi adesso la pizza Vai cuciniamo anche la pizza dai piatti Senza il forno Vediamo Possiamo decidere Che è? È ananas quello? Ah È l'altro per pancetta Si vede che ha fatto Ma la pizza All'ananas non si può vedere Può che ho messo? Prosciutto pancetta bacon Ma lo sapete cos'è una pizza? Cioè io lo vorrei dire Lo sapete Perché secondo me avete le idee un po' confuse Non è proprio una pizza Sì Ok Adesso manca giusto il dolce Perché secondo te Un pranzo senza il dessert Non è un vero pranzo no? Un torno Il dessert È un tuo corealistico Possiamo scegliere la glassa? Che onore Quella Quella gialla Quella gialla bellissima Poi vediamo un po' Guarda che scelte incredibili Questi Bellini O questi? No l'altro No 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 Questi ci stavano meglio Sì è fantastica Chiedo perdono Non volevo cliccare Ho sbagliato Oh questa è l'unica cosa decente Che abbiamo fatto In 20 minuti Sì no no Sono d'accordo Sono d'accordo Questo è davvero bellino E per i dolci bisogna sempre impegnarsi Scusa I dolci sono una cosa seria Ah ti devo Pure Cioè ma qui siamo i tuoi schiavi Cioè non capisco eh Ma Ti tiro in testa l'insalata No scusa Non abbiamo preparato per te il dolce Vai via Penso che abbiamo preparato il pranzo Per tutti gli studenti Qualcosa del genere Ah lì dal suo dolce Ho capito adesso Ho capito Non l'avrei mai fatto Ascolta Non l'avrei mai fatto Non ci può fare neanche Aspetta vediamo Questa volta L'altro inutile regalo Il nostro regalo Gli stivaletti Per la pioggia Sì Quando piove Belli Belli Chiudo il gioco Beh ragazzi Dici così se ci piace Scelteci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao